Poche ferie quest'anno per i consiglieri, per il Consiglio Comunale di Catania, tanti argomenti che bisogna discutere da quelli che riguardano il bilancio a quelli che riguardano il futuro urbanistico della nostra città. Su questo punto lei è intervenuto, il Consiglio è pronto? Ritengo di sì, a fine agosto con molta probabilità riprenderanno i lavori d'aula, chiaramente nelle prossime ore sentirò i capigruppo consigliari per stabilire una data innanzitutto della conferenza di capigruppo che spero di poterla riunire per fine di questa settimana o massimo inizio della prossima settimana, iniziare a calendarizzare i lavori d'aula. Sono tante le proposte di deliberazione su cui il Consiglio Comunale dovrà esprimersi. Immagino per esempio che sia possibile dare un'accelerata su quelli che sono i documenti di natura contabile finanziario, quindi il consuntivo, il bilancio di previsione al di là della proroga data dal Governo nazionale. Ritengo che il Consiglio Comunale, una volta che è messo nelle condizioni di poter esaminare tutti gli atti propedeutici, che gran parte sono stati già esaminati, possa nel mese di settembre deliberare il bilancio di previsione 2012. Andando contro quella che è una decisione nefasta del Governo Monti, di dare un'ulteriore proroga agli enti locali, una proroga che andrebbe a cadere con fine ottobre. Ciò significa che fino a ottobre siamo alla vigilia non solo delle elezioni regionali, ma siamo alla vigilia della chiusura dell'esercizio finanziario, perché l'esercizio finanziario chiude il 31-12 dell'anno in corso. Allora che senso ha approvare un bilancio di previsione a un mese e mezzo dalla scadenza dell'esercizio finanziario? Non ha proprio senso. L'unico risultato che si otterrebbe è quello di bloccare la programmazione dell'amministrazione. Ecco perché poi farò nei prossimi giorni un appello ai consiglieri comunali perché si dia un'accelerata sull'approvazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda invece il PUE e il PRG, lo abbiamo detto più volte, sembra essere questa, da un lato l'amministrazione e dall'altro lato il Consiglio, quelli che segneranno la storia per due elementi che sono fondamentali per lo sviluppo della nostra città, anche da un punto di vista economico, considerando la congiuntura nella quale ci troviamo. È davvero così? Assolutamente sì. Il Piano Regolatore Generale e il PUA rappresentano i pilastri portanti della programmazione dell'amministrazione e me lo lasci dire anche di questo Consiglio Comunale. Per quattro anni e mezzo il Consiglio ha lavorato allacremente sull'ordinaria amministrazione. Abbiamo aggredito l'emergenza economica, abbiamo messo l'amministrazione nelle condizioni di poter operare nell'interesse generale. Adesso si deve passare alla programmazione. I due atti principali che rappresentano la programmazione dell'amministrazione e anche quella del Consiglio sono il Piano Regolatore e il PUA. È chiaro che però bisogna anche mettere il Consiglio nelle condizioni di poter esaminare con assoluta serenità e serietà questi due atti assolutamente delicati e importanti per lo sviluppo economico della città. Sul Piano Regolatore Generale già la Commissione nelle condizioni di poter esaminare l'atto e di poter avviare un confronto concreto con la città. Per poi spero di poter convocare il Consiglio sul Piano Regolatore Generale entro il mese di dicembre di quest'anno per poi chiudere con l'adozione dell'atto entro fine del nostro mandato. Per quanto riguarda il PUA, ancora gli atti non sono stati mandati in Consiglio. Prima farà l'amministrazione e prima il Consiglio esaminerà il PUA. Prima farà l'amministrazione e prima il Consiglio esaminerà il PUA. Prima farà l'amministrazione e prima il Consiglio.